Gino, Dottore Gino, Dottore Gino, Dottore Gino, Gino Koloji Ciao bella, mio nome è Dottore Gino Koloji e io sono un paziente Un momento, guarda mi guarda Grazie Allora, il cuore è perfetto gli occhi hai due stucche fantastiche ogni giorno ci sono molte donne perché sono disperato perché il contesto è difficile e io aiuto le donne Allora, faccia di dormire Scusa faccia di dormire Allora, guarda la lontra brutta lontra brutta è perfetta la stessa高度 e bella rulla l'altra brutta è perfetta anche bella rulla ma problemi Allora le donne vengono da me, oppure non bisogna venire, bisogna solo complimenti. Allora, faccio l'ultimo testo con te, il test del dottore ginecologico. Un momento. Grazie, grazie. L'altra parte. Grazie, grazie. Tutti perfetto, bellissima, tutto in ordine. Il tono di te, l'altra parte, molto bene. L'altra parte, l'altra parte, il testo, anche molto bene. Perfetto. Non bisogna operazioni, non bisogna niente. Tu sei veramente perfetto. 450€ plus il testo, 1500€.